Dopo anni di polemiche, ma soprattutto anni di calvario per i pendolari lombardi, c'è forse uno spiraglio di speranza. Grazie al Movimento 5 Stelle, infatti, è stata approvata una mozione per aumentare i rimborsi da parte di Trenord per tutti i disagi subiti dai cittadini. Primo importante passo dei pendolari lombardi nei confronti di Trenord e dei troppi disagi subiti sino ad oggi. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle che chiede alla Giunta di intervenire in merito all'inadempienza di Trenord sui rimborsi per i disservizi ferroviari. Il consigliere segretario Eugenio Casalino del Movimento 5 Stelle ha ricordato un recente intervento della Corte di Giustizia europea che ha reso obbligatorio il rimborso per il ritardo del treno anche se dovuto a cosiddette cause di forza maggiore. L'impegno è molto preciso, eliminare queste clausole che sono vessatorie nel contratto di trasporto ferroviario di Trenord che erano già state eliminate, cosa che a me è sembrata particolarmente grave e vergognosa, già da Trenitalia e l'operatore privato NTV Italo in conseguenza di una sentenza della Corte di Giustizia europea. Questo è quanto è successo ieri in Consiglio regionale. Ripeto, adesso la Giunta dovrà fare una serie di passaggi tecnici ma ci aspettiamo che questo avvenga e come voi capite è un passaggio direi molto importante. E dopo la richiesta del Consiglio regionale alla Giunta di intervenire presso la società per provvedere all'immediato adeguamento delle condizioni generali di contratto di trasporto per recepire quanto stabilito dalla Corte europea, l'altra questione di fondo da affrontare una volta per tutte resta il monopolio di Trenord in Lombardia, una situazione anomala e per nulla confortante. La Regione Lombardia ha, come è ovvio, un contratto di servizio nei confronti di Trenord. Quello di cui stiamo parlando è la modifica del contratto di trasporto, quindi di servizio di Trenord nei confronti dei suoi utenti. Quello che io so, noi abbiamo anche discusso di questa cosa in Consiglio, cioè è stato appena rinnovato questo contratto di servizio per Regione Trenord, al 2014 e al 2020. Ora, io personalmente non sono entrato in questa discussione, so che altre regioni non hanno né un proprio operatore controllato da Regione e non hanno neanche commissionato questo stesso servizio regionale a Trenitalia, come dire, vabbè, qui in Italia o hai un tuo operatore regionale o passi a Trenitalia, ma hanno preferito lavorare con altre modalità. Quindi il problema c'è ovviamente, per il momento abbiamo Trenord e ce la teniamo. Grazie a tutti.